Una dozzina di movieri a presidio delle zone più critiche per regolare la circolazione ed evitare ingorghi. È la soluzione emersa oggi dal tavolo convocato in prefettura per affrontare il tema della statale regina, nuovamente a rischio collasso alla luce della chiusura della statale 36 Lecco Colico per lavori alla Galleria Montepiazzo. Non avrei mai voluto convocare questo incontro francamente, purtroppo questa situazione che si è venuta a creare sulla sponda lecchese ha fatto precipitare tutto. Riuniti intorno al tavolo gli esponenti del territorio coinvolti a vario titolo dall'ennesimo problema che ha travolto la regina. Presente anche un esponente di ANAS, l'ente che gestisce sia la regina sia la statale 36, la cui interruzione ha comportato un evidente aumento di traffico che ha più volte mandato in tilt nei giorni scorsi la circolazione sull'arteria a Comasca. Primo risultato, domani mattina alle ore 11 a Dossuccio ci sarà un sopraluogo tecnico con polizia stradale e varie altre forze di polizia per stabilire quali sono con la massima certezza i punti critici, cioè le tre strettoie e quanti movieri mettere in quelle strettoie. È stata fatta anche un'ulteriore richiesta di anticipo di apertura della Galleria Cernobbio, stiamo aspettando l'orario, siamo disponibili ad anticipare questa apertura. Ora non resta che trovare le risorse per finanziare l'attività dei 12 movieri, ovvero gli addetti alla regolazione del traffico da distribuire su due turni nelle tre strettoie più critiche. ANAS ha dato disponibilità a compartecipare ai costi, lo stesso la Camera di Commercio, bisognerà verificare se altri enti possono intervenire con risorse proprie, per esempio la Regione. La soluzione emersa dall'incontro odierno dovrebbe quindi permettere alla Regina di resistere fino alla riapertura della canna a sud della Galleria sulla 36, chiusa per lavori dal 2012. Il tunnel dovrebbe essere nuovamente praticabile da fine giugno, ma l'obiettivo è anticipare i tempi. Resterà off-limits invece la canna nord della Galleria, chiusa da circa dieci giorni. Quello che è successo nella canna nord era sotto monitoraggio dal settembre 2012. Nella penultima rilevazione avvenuta il 27 di aprile abbiamo riscontrato dei valori non critici, che invece sono diventati critici nella rilevazione del 9 di maggio. Quello che sta succedendo è la dimostrazione, qualora ci fosse mai bisogno, del carattere strategico che ha la variante della tremezzina, che ha la variante della città.